Ciao amici di Talia Talk Games, buongiorno, venerdì 12 aprile, oggi andremo a scoprire i possibili giocatori leggendari in arrivo lunedì prossimo, ma parleremo anche di qualche altra cosa di Football 2024, qualche indiscrezione, qualche considerazione su una cosa che è arrivata ieri, interessante, e poi parleremo anche di un altro videogioco, un altro Football, ma non il Football, adesso vedrete tutto. Prima però vorrei chiedere a tre di voi, che ancora non sono iscritti al canale, di farlo, per far scattare il contatore. Ieri in tantissimi vi siete iscritti al canale, l'ho già detto, c'è uno che è iscritto e uno che non è iscritto, tra i visitatori di questo canale che lo guarda. Se oggi in tre vi iscrivete, fate scattare il contatore che scatta ogni 100, quindi non è semplicissimo farlo scattare. Vi ringrazio davvero se farete scattare oggi il contatore e arriveremo a 16.700 iscritti, siamo a 16.697. Allora, cosa vi devo mostrare oggi? In primis da ieri una piccola segnalazione. Questo Guardiola, tra gli abbonati del canale, ciao Roberta, me l'ha chiesto proprio lei, ma poi in realtà in privato anche altri. Ma come mai Guardiola nel pack allenatore è segnato Bayer Monaco? E' interessante, la ragione è la seguente. E' Guardiola 13 e 14, quando Guardiola allenava ovviamente i bavaresi. La cosa interessante è perché apre, ha possibili, possibili nuove licenze per Konami. Sappiamo bene che ad esempio la Premier League è blindata per gli sports, quindi non solo le squadre, non solo i giocatori, ma anche gli allenatori. I giocatori riescono a scavallare la cosa perché per fortuna Konami ha i diritti della FIFA Pro e anche altri giochi di calcio possono inserire almeno i giocatori per quello. La questione degli allenatori è diversa ed infatti Guardiola non è presente ufficialmente nel gioco, e infatti in quello base, quello che allena il Manchester City si chiama Luis Roman, però questo 13 e 14 può essere presente in forma ufficiale con la foto e tutto quanto. Quindi questa cosa cosa ci dice? Non ci dice nulla al momento se non appunto che abbiamo Guardiola con il nome, che a tanti di voi potrebbe neppure interessare. Però in teoria Konami, con una sorta di macchina del tempo dei diritti, potrebbe andare a prendere dei diritti che oggi non sono disponibili proprio andando a vedere nelle squadre partner. Faccio un altro esempio. Carlo Ancelotti è l'allenatore del Real Madrid. Carlo Ancelotti è attualmente blindatissimo all'interno di EA Sports FC, però magari l'Ancelotti che ha allenato il Milan, l'Ancelotti che ha allenato il Napoli, anche se le due stagioni del Napoli, una stagione e mezza, non furono proprio clamorose, beh, come Milan potrebbe essere un allenatore che si può andare a recuperare con tanto di pack, con tanto di immagine ufficiale. E questa cosa potenzialmente, sottolineo potenzialmente, potrebbe riguardare anche altri tipi di contenuti, che nel passato con squadre partner potrebbero portare a cose relativamente interessanti a livello di licenze. Poi sappiamo bene che EA Sports è una macchina da guerra da questo punto di vista. Io non è per giustificare Konami, però lo ricordo sempre. EA Sports ha distrutto la concorrenza, l'ha annichilita, l'ha letteralmente uccisa, ad esempio nel campo dell'NFL, perché con l'NFL nel campo del football americano ha preso l'esclusiva di tutti i diritti dell'NFL e tutti gli altri, anche 2K, si è dovuta fare da parte, perché senza i diritti dell'NFL in esclusiva, cioè se EA Sports ha i diritti in esclusiva e nessun altro ce li ha, ovviamente è impossibile gareggiare. Ecco, anche questa sorta di macchina nel tempo potrebbe aprire a possibilità di contenuti con licenza a cui io onestamente non avevo pensato. Non pensavo proprio che Guardiola nel 2013-2014 potesse essere riutilizzato. Quello che onestamente non so è se Konami si è concordato con Guardiola o se magari c'era qualche schema di diritto, di cessione dei diritti, per cui il Guardiola 13-2014 rimane a pannaggio del Bayern Monaco perché era l'allenatore del Bayern Monaco e il Bayern Monaco di squadra partner. È un mondo che sarebbe da conoscere, che magari in ogni situazione è differente, però è un elemento interessante che mi sembrava il caso di sottolineare. Parlando di un altro football, vorrei parlare un secondo di Football Manager 2024. Se cercate un'alternativa manageriale di livello, di gran livello, vi segnalo che questa settimana è arrivato l'aggiornamento dati finale di Football Manager 2024 che ha introdotto oltre 400.000 modifiche al database, gli ultimi trasferimenti per i campionati Stati Uniti e Cina, eventi importanti non legati al mercato, oltre a correzioni minori al gameplay. Ricordo che Football Manager 2024 è disponibile per Xbox Series X ed S, per Xbox One e PC, anche su Xbox Game Pass con l'abbonamento. Su PC è disponibile anche su Steam se non ha l'abbonamento e quindi lo vuole prendere lì o su Epic Game Store. Per il mobile è disponibile in esclusiva per gli abbonati di Netflix, cioè pagate l'abbonamento a Netflix, avete in regalo, incluso la possibilità di giocare a Football Manager 2024 su mobile e su PlayStation 5 invece è disponibile come gioco stand alone, cioè bisogna acquistarlo o in digitale o in versione fisica. Dopo questo aggiornamento Football Manager 2024 è concluso definitivamente e poi io non vedo l'ora di vedere le novità del 2025 in cui arriverà un nuovo motore grafico. Non si giocherà, sarà sempre manageriale, però arriva a un nuovo motore grafico, lo Unity, e sono davvero molto molto curioso di vedere cosa ci proporrà Sports Interactive. Solito disclaimer, warning, quelle che seguono non sono informazioni ufficiali, ma indiscrezioni e o data mining. Countdown 3, 2, 1. Allora, partiamo da Renan Galvani che non cito da tempo. Secondo Renan Galvani, Konami rilascerà un aggiornamento alla fine di questo mese. L'aggiornamento è arrivato in ritardo rispetto al lancio della Season 5, l'ultimo, e quindi stando a lui arriverà anche un nuovo aggiornamento che potrebbe essere l'ultimo o il penultimo. E presto avremo le campagne per il compleanno di Football 2024 a maggio. Questo l'ha annunciato Konami, in effetti non di Football 2024, di Football come app dovrebbe essere. Qui si vede anche questa immagine di Romario, fa pensare che possa essere in regalo. Staremo a vedere. Io un'epica bustata regalata la vedo dura, ma spero davvero di sbagliarmi. Ed ora veniamo a lunedì, a il pool quasi certo che arriverà. Ci sono gli attaccanti della Liga Spagnola in evidenza, Griezmann, Siankov, Vinicius Junior, Ocampos, Ferran Torres, Sorlot, Sergio Camelio, e Nico Williams, che troviamo anche tra i giocatori in evidenza di questa settimana. Quindi, è facile immaginare, lo stanno facendo già tutti, che i giocatori bustati, epici in arrivo, sono quelli del filmato di ieri. Saviola, Barcellona, Luis Figo, Real Madrid, e Klaibert, Barcellona. Grazie a Francesco Leggendo 88, per la segnalazione di questa immagine. Quindi tre, che sono stati già preannunciati da Konami, all'interno del comunicato rilasciato, e che quindi dovrebbero essere loro i primi tre a arrivare in questa stagione 6. Questi sono i parametri di base, dovrebbero essere i parametri di base, poi i Football Hub non riesce a tirare fuori dal codice quanti sono i livelli di crescita. Comunque, ragazzi, Konami non ha mostrato gli overall per creare un po' di hype, ma credo che quelli di Figo saranno molto elevati. che comunque dovrebbe partire da 85-86, Klaibert da 84-85, questi sono i suoi parametri e le sue abilità, e questo infine è Saviola, idem, queste sono le sue abilità, gli skills e i suoi parametri di base. Al solito dovrebbe essere il solito pool da 150 giocatori, e questo è quanto. Queste dovrebbero essere quindi le tre leggende in arrivo per lunedì. Va bene, ragazzi, io vi lascio, vi lascio per questa mattina, per il momento, vi do appuntamento a questa sera alle 20, per il campionato, devo ancora registrare le partite, non so se avrò tempo di giocarne tre, però un video qualcosa arriva alle 20, ci vediamo quindi alle 20 stasera, salvo breaking news, poi domani mattina, salvo ulteriori aggiornamenti e novità, farò un discorso un po' generale su alcune cose di cui mi sono accorto, che ho percepito nelle ultime settimane, non nel gioco, ma nel metagioco, diciamo così, di football, salvo ulteriori cose, finalmente farò questo video che sto rinviando da qualche giorno. Per il momento è tutto, vi auguro un buon inizio di fine settimana, fatemi sapere cosa ne pensate un po' di tutto quello di cui vi ho parlato questa mattina. Un saluto, ciao!